Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata tutta delicata ebay e giappone quest'oggi siamo qui per andare ad unboxare un piccolissimo pacchetto che ci è arrivato al giappone non so cosa c'è dentro il preciso se arduino o il display ma quest'oggi andremo ad unboxare questo mini pacchetto che si biodegrada ancora prima di essere tagliato allora vediamo un po' ah sono i due mini arduino tra parentesi questi li ho pagati veramente una stupidata sono arduino che vengono spediti dentro queste mini custodie a 1,73 euro cioè non è niente e sono arduino che tra parentesi avevo già parlato ma con la differenza che questi sono fatti molto meglio e per 1,87 euro me ne sono presi BIN2 questi sono sistemi che detto sinceramente si chiamano BATE si BATE e praticamente hanno il codice produzione BTE14-01B sono sistemi della BATEMQ.cn che è un sito cinese che in pratica crea microprocessori tipo questi qui che appunto simulano arduino nano originale e questo è veramente ottimo perché per fare sperimentazioni anche di non ritorno per 1,50 euro cioè praticamente un caffè o un cornetto o un mezzo cornetto si può avere un arduino già funzionante pronto per essere saldato comunque questo è un mini episodio solo informativo per il suo computer museo è tutto grazie ancora al prossimo episodio ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti